La manifestazione ormai è tre anni che si tiene qua a Volta Mantovana, stiamo cercando di ampliarla sempre più, siamo un gruppo di organizzatori giovani, in collaborazione con l'amministrazione comunale, il gruppo Volta per Volta, di volontariato. Come ogni anno noi collaboriamo insieme a Ludicamente che propone sia dei giochi da tavolo che delle attività di intrattenimento sia per i più giovani che per quelli un pochino più grandi, facendo anche conoscere le novità che vengono proposte nel mondo dei giochi da tavolo. Ci sono anche la Scuola Internazionale di Comics di Brescia che presenta insieme a Angelo Bussacchini e a Riccardo Borsoni workshop sul fumetto e sulla sceneggiatura. Nelle scuderie si possono trovare tutti gli espositori, quest'anno sono oltre una ventina e vengono praticamente da mezzo Italia, da Roma fino al nord Italia e presentano vari tipi di gadget o di accessori per il cosplay, cibi di origine giapponese, fumetti e di tutto di più. E quest'anno abbiamo voluto puntare sia su un target di giovani che un target di adulti portando anche la mostra di Diabolic magari anche per catturare l'interesse di qualche spettatore un pochino più agé rispetto al nostro solito target adolescenziale. Si tratta di una mostra del titolo Altri sguardi sul re del terrore. L'abbiamo fatta per la prima volta a Casale Monferrato in un evento che si chiama Casale Diabolica che organizziamo ogni anno con la mia associazione Creative Comics. La riproponiamo qui perché l'abbiamo intesa come itinerante. Si tratta di una serie di illustrazioni che 40 illustratori italiani hanno realizzato ispirandosi a Diabolic. Quindi insomma erano tutti autori che non avevano mai disegnato Diabolic e che in questo caso hanno dato una loro interpretazione del personaggio in maniera anche dissacrante, insomma anche particolare. Io personalmente sono un disegnatore che ha disegnato spesso Diabolic però ora sto lavorando per Labonelli e sto disegnando Dampir e mi diverto molto, insomma. In Nerdquiz vengono fatte delle domande su tutto quello che può riguardare cartoni animati, fumetti, serie televisive, film e quant'altro. Alla fine della giornata viene fatta la somma dei punti e viene premiato il miglior Nerd della giornata. Io sono Kill la Kill, personaggio del Pokémon. Kyoko Sakura di Madoka Magica. Io sono Yuripe di Angel Beats e vivo in una specie di purgatorio dove combatto Dio insieme a un gruppo chiamato Resistenza. Il mio personaggio è Kagome Gurashi di Nuyasha e praticamente è la reincarnazione di una sacerdessa, Kikyo e lei è la custode della sfera dei quattro spiriti. Sono la volontà dell'abisso che comanda i vari chain, che sono i mostri che stanno appunto nell'abisso. Io sono Alice, sempre di Pandora Earths e sono sua sorella, che al contrario su questo nell'abisso, sono riuscita ad uscire grazie a un contratto e ora devo cercare i pezzi dei miei ricordi. Di solito il riferimento sono i personaggi del mondo giapponese, quali degli anime, dei manga, ad esempio ho visto girare un personaggio del fumetto di Dragon Ball oppure i personaggi che ad esempio si vestono come fossero dei soldati, appunto, secondo la moda del soft hair oppure altre persone si sono vestite secondo la moda, ad esempio adesso piace molto Harley Quinn quindi ho visto una ragazza che era vestita proprio ad hoc ed era perfetta e sembra uscita dal fumetto.